Millo, regina e Ternana regalano un match ricco di gol, spettacolo ed espulsioni. Il primo rosso al venticinquesimo con Agazzi che lascia i suoi in dieci. La Ternana però non si scompone, anzi chiude il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Falletti al quarantaduesimo. Impeccabile il suggerimento di Donna Rumma. Il pareggio a Maranto arriva con un colpo di testa di Menez al quinto della ripresa. Il francese viene però espulso dieci minuti più tardi per un fallo su Proietti. Al sessantacinquesimo la regina trova il gol del sorpasso. Il portiere delle fere prima arriva su una testata potente di Galabinov, poi travolge Rivas e calcio di rigore. Dal dischetto si porta lo stesso Galabinov che segna il suo primo gol in Amaranto. Al settantesimo arriva il tris regino con Rivas, mentre al settantanovesimo la Ternana accorcia con la splendida rovesciata di Mazzocchi. La regina spreca il poker con la ribi, la Ternana invece prima resta in nove con il rosso a Proietti, poi all'ultimo secondo si divore il 3-3 con Pettinari.